Cura veterinaria per i gatti Pianificare controlli regolari e vaccinazioni per garantire il benessere del tuo gatto e individuare precocemente eventuali problemi di salute è fondamentale per mantenere il tuo amico felino in salute e felice. Le visite veterinari e regolari consentono al veterinario di valutare lo stato di salute generale del tuo gatto, controllare il suo peso, esaminare la salute dentale e discutere di eventuali preoccupazioni o cambiamenti nel comportamento. Inoltre, il veterinario può eseguire esami diagnostici, come esami del sangue e radiografie, per individuare tempestivamente eventuali malattie o condizioni nascoste. I vaccini sono essenziali per proteggere il tuo gatto da malattie infettive potenzialmente gravi, come il calicivirus felino e la leucemia felina. Il veterinario può anche consigliarti su misure preventive, come il controllo dei parassiti e la sterilizzazione, per mantenere il tuo gatto al sicuro e in buona salute. Prendersi cura della salute del tuo gatto attraverso visite veterinari e regolari è una parte essenziale della responsabilità del proprietario e contribuisce a garantire una vita lunga e felice per il tuo fedele compagno. Iscriviti al nostro canale per ulteriori consigli sulla cura dei gatti e sulla promozione del loro benessere generale. Condividi e scopri il video completo su Zampe Amiche. Iscriviti. Ti aspetto.